Allora, buonasera a tutti quanti. Anticipiamo questa volta due minuti alle nove. Anticipiamo un pochettino. E questa sera sono veramente contento di avere nella diretta Luigi Agostini. Ciao, sì. Luigi Di Livorno, un grandissimo professionista. Oggi faremo una chiacchierata sulle tecnologie, sulle tecnologie, le realtà immersive, le spazializzazioni. Luigi non solo è un grande esperto di tecnologie, ma è uno che le costruisce, le realizza le tecnologie e realizza tecnologie per l'audio 3D, per la spazializzazione dentro gli ambienti. Ha dei progetti incredibili di cui ci racconterà anche oggi. E io sono particolarmente contento stasera perché io e Luigi, ovviamente condividiamo l'esperienza di Io Sento, di questa realtà livornese di cui Luigi mi ha invitato a farne parte tanti anni fa, per cui per me c'è un sapore ma anche molto affettivo la diretta di questa sera. E quindi partiamo un pochettino proprio da te Luigi. Vogliamo raccontare un po' il tuo percorso, la tua storia, lo sviluppo, come ha iniziato a muoverti in questo mondo sonoro? Dobbiamo andare indietro parecchio nel tempo, purtroppo siamo un vecchierello. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui a seguire questa diretta. Dobbiamo risalire all'83 all'incirca, dove già io facevo da ragazzetto in verbe musicista, ma ebbi la fortuna di incontrare un insegnante lungimirante, molto in anticipo sui tempi, che si chiama Walter Savelli e mi ha stradato da subito sulla strada giusta, facendomi acquistare un Atari 1040 ST. Io ero andato da lui per studiare composizione, per imparare a scrivere canzoni, ma pensate un po' nell'82, mi sembra, l'82-83, lui già mi disse, guarda, la prima cosa che devi fare è prenderti un bel Atari e un Pro 24, progenitore di Cubase. Ma lo sai questa cosa Luigi? È il bello che con tutte le persone che abbiamo coinvolto, abbiamo parlato, partiamo sempre da lì, partiamo sempre che comunque tutto inizia con un Atari un Atari 1040. La cosa bella è questa, ci accomuna tutti quanti l'esperienza dell'Atari. E niente, da lì poi, frequentando il corso, ho avuto modo di conoscere altre persone, mi è subito partita la bambola, la passione per la tecnologia, quindi mi sono interessato a un software allora sconosciuto di una ditta californiana che all'inizio si chiamava DigiDesign, i software si chiamano ProEdit e ProDeck, e mi comprai, grazie al buon Marzio Benelli che si privò del suo Mac 2FX, un sistema Pro Tools che era basato, pensate, ben su quattro tracce, una cosa esoterica veramente, che si editavano con Sound Designer 2, si scaricavano e caricavano in digitale con un DATIO, da DAT, con il classico rumoretto, e il passaggio che era ogni volta un'avventura, diceva, speriamo che stavolta vada bene, non ci siano drop, click, cose del genere, facevi il tuo backup. E da lì poi un'altra persona a cui devo tantissimo è Andrea Valassina, della società di Ponte d'Era che distribuiva a quei tempi DigiDesign, che, bontà sua, cercava un ragazzo per aiutarlo nella tua impresa di distribuire Pro Tools in Italia, e mi chiamò, io penso a Silvio che ci studiai un attimo, mi disse, no ma c'ho lo studio, c'ho da suonare, non so se ti posso aiutare a tempo pieno. Buona Andrea mi disse, ma guarda, pensaci bene, infatti poi scelsi di aiutarlo a tempo pieno e effettivamente fu una scelta che adesso mi ripaga abbastanza di quello che ho fatto a quei tempi, lunghe giornate sul database di contatti del Valassina, da buona reclusa a spulciare. Però mi parlavi prima di tutte le persone che hai invitato, mi è fatto gran piacere di trovare dei nomi che già spulciavano in quei database, perché erano clienti affezionati di Pro Tools e DigiDesign. Poi piano piano cominciai a distribuire Max con la Opcode, Studio Vision, cominciai a conoscere Borsotti, te, la Mediaware per Cubase. Avevo uno studio, pensa, che era basato su un Cubase audio e un Sound Tools, quindi facevo quattro tracce con un sincrono MIDI timecode fra Atari 1040 e Mac 2, con tutta la parte di mixer, erano dei DMP7 della Yamaha, remutata in MIDI, quindi praticamente c'era già l'automazione e tutto. Lo studio si chiamava Played, saluto Diego Persi Paoli, mio collega di quei tempi con il quale ho fondato lo studio, grande amico, grande bassista, e i clienti entravano, facevano dov'è il banco? Io gli facevo vedere il monitor del computer con tutti i canali, facevano, va bene, arrivederci, uscivano, andavano via. Successivamente, poi mi è successa l'esperienza contraria da distributore, allora magari li chiamavo, li facevo vedere il banco Odium perché distribuivo come agi soluzioni digitali, mi chiedevano dov'è il Pro Tools, ma adesso c'è DigiDesign Italia, e uscivano ugualmente. La costante era sempre parlare di cose che non erano troppo avanti sui tempi. E andando avanti di questo passo, ti ho fatto la storia a breve perché se non sarebbe stata lunghissima, arrivai a decidere di fare sviluppo. Sviluppo cominciai nel 97, grazie a un incontro folgorante con il professor Di Giugno, Peppino Di Giugno, forse, vabbè, non proprio mi sconosciuto perché tante persone lo ricordano ancora, adesso fa l'astronomo, monta su, ha mollato completamente l'audio, gli algoritmi, eccetera, ma ai tempi mi fece una demo di un sistema di spazializzazione in piano, non era ancora 3D, era una tecnologia che lui proponeva, grazie, aspetta fammi ricordare, si chiamava, Iris, Istituto di Ricerca dell'Industria dello Spettacolo. Era l'Iris che stava a Paliano, ne parlavamo con Stefano Daino in altre, in altra diretta. Gran peccato che sia stato chiuso, uno dei tanti grandi peccati nel nostro settore. Comunque, quell'incontro mi aprì un qualcosa nella testa che ancora non riesco a soddisfare come vorrei, che è appunto l'idea di dire, ma come questa spazializzazione è sempre tutta in piano, perché non farla tridimensionale come la realtà? Io non fece altro che ragionare e dire, ma beh, nella realtà i suoni non mi arrivano mica da un piano, mi arrivano dall'alto, da sotto, da 360 gradi intorno a me. Quindi ne parlai con l'assistente del professor Di Giugno, che saluto, Umberto Zangheri, carissimo amico, con il quale ho condiviso tante avventure poi in seguito, per tutti i prodotti che ho poi creato e distribuito. E lì cominciamo a parlare in giro delle fiere, pensa, andai nel 2000, feci una fiera in America, buffissimo perché poi non avevo una grande esperienza, decisi di chiamare il prodotto Ai Misi, che come sai in inglese può essere anche un termine abbastanza ambiguo, e poi per orgoglio nazionalista misi l'uomo vitruviano di Leonardo, nudo, sulla scatola. Quindi immaginati, uno stand in America con scritto Ai Misi, l'uomo nudo, io dal solo. Pulio Alvarez dell'Apogee, carissimi amici. Quando uno se le cerca, come si dice, eh, proprio. Sai cosa facendo? Vabbè, comunque fu più che altro non quel lato lì divertente, ma il più divertente era la faccia delle persone che venivano e mi chiedevano che prodotto è questo, e gli dicevo, è uno spazializzatore tridimensionale. E che è? E cosa serve? Perché... No, ci furono alcuni che mi chiesero proprio, ma perché vuoi fare l'audio 3D? Pensaci adesso a vent'anni di distanza, che tutto sembra dover essere per forza adesso 3D, che non è neanche vero poi alla fine. E da lì poi ho cominciato a fare prodotti, e quindi ricordiamo l'Espat Box, che era una... Mi sa che forse sarebbe meglio farti vedere qualche immagine, perché come ti ho detto prima... Io mi ricordo che quando ci siamo conosciuti, noi in quel di Livorno, io ero lì al Grape Juice Festival con le mie classi di sound designing, e c'era anche Enrico Cosimi con noi, e alla fine stavamo in quel teatro di quella villa, che adesso non mi ricordo, quel parco, e avevamo fatto tutta quella installazione multicanale, surround, e se io penso che quando ci conosciamo lì mi diceva guarda io ho questa tecnologia, mi facessi vedere questa scatoletta ex... di Spat Box. Esatto, che era fantastico, perché c'aveva pochissimi pulsanti, c'aveva tre pulsanti o quattro pulsanti, e vedevo tutte queste uscite e ho detto ma che cos'è questa cosa? Che quando poi me l'hai fatta vedere ho detto accidenti! Era la prima volta che sentivo parlare di un discorso di audio 3D, perché noi giustamente quando facevamo spazializzazione sonora pensavamo più che altro a un 5.1, un 7.1, una cosa del genere, ma non c'avevamo minimamente idea del discorso di un audio 3D con sonorità che vengono dall'alto verso il basso, era una cosa magnifica. È l'auditorium kiti dell'Istituto Conservatorio Mascagna a Livorno, ho avuto l'onore di fare questa installazione a 24 diffusori, che tuttora è in funzione, e questo appunto è il buono Umberto Zanghieri, accanto al prototipo dell'Icepat Box 2, seconda generazione, vedete i vari convertitori, eccetera. Questo prototipo, questa è la parte del matroneo dove avevamo messo le casse nella parte più alta, questo prototipo ha avuto dei momenti di gloria notevoli, almeno per una città di provincia come Livorno, perché sono venuti dall'Australia, dal Canada, dal Giappone a Livorno, apposta per ascoltare la spazializzazione. Il software ai tempi era già una cosa di questo genere, quindi 3D completamente, con posizioni, traiettorie e tutto, questo fatto con gli amici della Riegel Engineering di Livorno. Sì, questo noto con piacere che sei andato a finire sul mio blog, sugli articoli che hai fatto per me e per il blog. Ti ringrazio ancora per il spazio alle illucubrazioni e pofogli del matto qui presente. E niente, come vedete, era già impostato in un certo modo, ma era troppo presto, erano tempi in cui ancora non si cercava, come adesso, di fare tutto in maniera immersiva, in maniera anche, diciamo così, basato più su realtà aumentate o diverse da quelle normali, diciamo così, in cui viviamo. Quindi il risultato è una cosa troppo in anticipo sui tempi e stoppiamo lo share. Poi ricordiamo la IG, la IG Struzioni Digitali, la società che ho gestito come amministratore per ben 18 anni insieme a Augusto Gentili, mio socio di allora, e poi ha avuto una chiusura inaspettata, però per motivi personali di Gentili, siamo lasciati da morire d'accordo, benissimo, però con un grande rimpianto perché eravamo lanciatissimi a quei tempi con la seconda ISPAT Box, chissà a quest'ora, perché ecco, un'altra cosa che ti voglio far vedere, ritorno di nuovo sullo share screen, la ISPAT Box in Giappone, cosa a cui tengo particolarmente, vediamo se la ritrovo, questo è un altro, questo invece sono i tempi nostri. Perché intanto che tu lo cerchi, la cosa interessante tua soprattutto è che ovviamente tu hai grande considerazione anche sui mercati americani, sui mercati giapponesi, che sono noti per essere mercati che stanno all'avanguardia su questo tipo di tecnologie, per cui a volte, come proprio il classico detto, uno è semi-sconosciuto o comunque poco considerato nel proprio paese, mentre invece quando poi parca i confini diventa una sorta di celebrità, perché ovviamente lì ci sono società che sono molto attente a questo tipo di tecnologia, a questo tipo di esperienze. Quindi qua colgo l'occasione per salutare, anche se non ci vedrà in questo momento, perché dal Giappone, l'Acoustic Field è il mio distributore giapponese di allora, che lo posso dire, tanto non ci vedrà e non seguirà la cosa. Lui non sa che ha un nome profetico per quello che stava facendo, per quello di cui si occupa anche tuttora, perché è molto ferrato e competente in campo del botticanale, degli ambienti immersivi. Lui si chiama Giro Kubo. Quindi se pensate alla disposizione delle casse, è a Kubo. Il Giro Kubo è bellissimo. I suoni in un ambiente. Lui si chiama, ha il nome profetico proprio, cioè il nome adatto per il lavoro e poi si è ritrovata a fare. Questa è un'altra cosa a cui sono molto affezionato. Si chiamava Silent Sound. È un software che ho venduto alla Pixar e a Sky Sound in America e poi non ho più venduto. Praticamente ci chiamarono in Pixar e ci fecero fare il giro, ci regalavano un paio di pupazzetti. A questo tempo c'era Monster & Co. E poi ci portarono in una stanza dove ci fecero vedere uno stuolo di ingegneri dicendo guardate, questi sono gli ingegneri che stanno rifacendo il vostro software. Come rifacendo? Sì, avete avuto una buona idea. Vi ringraziamo, però volevamo avvisarvi che adesso lo porteremo avanti, lo svilupperemo. grazie, molto umani, con un po' alla fantozza siamo tornati via contriti e pentiti e niente, è finita la storia. Mannaggia la miseria. Però non è stato ancora messo in commercio questa soluzione. Vedi che ci sono questi cerchi che si ridimensionano automaticamente e seguono i colori, quindi ti permettono di agganciare i modelli nel video e trasformare istantaneamente il movimento dell'oggetto, del soggetto nel video in una traiettoria 3D perché hai sia la profondità con la dimensione che si restringe, si allarga del cerchio, sia la Z che la X perché il cerchio seguiva in questo caso l'anoplanino e loro l'hanno usato per la prima volta alla ricerca di Nemo. Quindi quando vedo il film mi viene in mente lo stuolo lì di ingegneri che hanno rifatto il nostro Sinensound, vabbè. Ma dai, lasciamo questa cosa da vecchiarello che mi vado sempre a infugnare sulle cose stop e share. Beh, di certo è stato una bella soddisfazione quello di avere proprio la propria tecnologia ripartata dalla Pixar anche se immagino uno avrebbe sperato in altra considerazione. È stata una soddisfazione breve ma intensa. Breve ma intensa, esatto. Ti sei reso conto e dicevi ma non fregassi tutto, vabbè, pazienza. Chiedi che dobbiamo fare. E poi arriviamo praticamente ai giorni nostri. prima col progetto io sento di questa idea magnifica di questa stanza sensibile cioè l'ambiente dove prima si punta la spazializzazione del suono adesso diventa interattivo ovvero studia in qualche modo quello che tu fai all'interno di esso attraverso tutta una serie di sensori che vanno a percepire il tuo movimento tuo stato d'animo eccetera e che succede in questo ambiente meraviglioso? Si instaura un feedback emotivo la cosa più bella che si può realizzare in musica cioè la cosa che anche noi mi dico noi non me lo merito perché ormai sono musicista in pensione e anche quando ero musicista non è che fosse poi una grande però insomma quello che cerca di fare qualsiasi musicista è stabilire un contatto con un pubblico avere uno scambio di emozioni e con il sistema di io sento questa cosa avviene anche tra l'uomo e la macchina in un modo controllato logicamente è pur sempre la personalità del programmatore che viene usata per l'intelligenza artificiale o un insieme di programmatori quindi si parla sempre di cliché io ci vado sempre molto piano quando si parla dell'intelligenza artificiale perché mi sembra uno simoro secondo me comunque è una visione mia scusami è una cosa che non ha fondamento scientifico e quindi fra la macchina fra il software e l'insieme di hardware che costituisce io sento e la persona all'interno della stanza sensibile si instaura un feedback un gioco di azioni e reazioni che funziona anche quando magari la persona sta cercando di sabotarlo o di non farlo funzionare bella è quella perché anche un atteggiamento ironico o distruttivo viene interpretato ugualmente dalla macchina genera delle risposte anche più divertenti forse di quando uno cerca di fare funzionare la macchina regolarmente e le modificazioni nel diciamo così nello stato d'animo della persona all'interno della stanza e quello che produce la macchina attingendo la database di frammenti musicali o meno ambienti suoni toniche tutto quello che può essere utilizzato viene fuori insomma qualcosa di molto creativo e sempre nuovo oltretutto perché quasi mai si riesce a ripetere completamente qui bisognerebbe fare una cosa noiosa Silvio magari la sorvoliamo perché andare a spiegare ora la composizione dietro alla macchina cioè come deve utilizzare che poi praticamente è stata una cosa che noi avevamo previsto nel 2012 sempre e adesso è una cosa che è all'ordine del giorno in vari software che te conosci benissimo per la composizione dei videogames appunto poi si tratta di quello di utilizzare la musica non più in modo seriale e limitato con dei tempi delle regole ben precise la strofa il ritornello il bridge e cose di questo genere ma si cerca di legare la riproduzione musicale la costruzione la forma agli eventi reali è la cosa più bella che si possa fare secondo il mio gusto personale poi magari chi ti dirà mamma mia che palle stessa noiosissima però invece a me piace quando la musica ti può essere vissuta cioè non subita a me piace andare ogni tanto a un concerto a un evento particolare mi scelgo gli esecutori mi scelgo l'ambiente l'acustica e vado però poi non è che posso limitare il mio rapporto con la musica a quel concerto lì sporadico anche se magari poi sono uno che se ne vede due o tre al mese per lui a me piacerebbe che la musica fosse un qualcosa che ci accompagna e ci aiuta perché qui andiamo poi nelle neuroscienze nella psicologia la psicoacustica i vantaggi che si hanno ad essere a vivere una vita con la musica veramente cioè con la musica con la m maiuscola quella che puoi viverla tranquillamente facendo le tue cose senza che ti impedisca di vivere e quella che non richiede assolutamente la tua attenzione e la tua concentrazione assoluta ma nello stesso tempo è lì e ti influenza a livello proprio di vibrazioni prendiamo su battimenti binaurali su varie cose che insomma lasciamo perdere sarebbe bello sarebbe bello se i vari sistemi perché poi la stanza sensibile è stata un'anticipazione di Alexa i vari sistemi di assistant sarebbe bello che queste macchine pensassero un po' più alla parte umanistica ai sentimenti delle persone meno con questa visione utilitaristica a due o tre funzioni tipo che tempo fa dove deve andare rammentami questo rammentami quello è un uso molto ridottivo di questa tecnologia mi ricordo che quando in qualche modo parlammo di io sento della stanza sensibile a me quello che era particolarmente interessante era questa idea di incrociare dei dati che normalmente sono più campo d'azione di certi settori della musica vedi la musica applicata ovvero le condizioni psicologiche l'emotività per cui alla fine tu entravi in questo ambiente entravi con le tue emozioni nel tuo stato d'animo attuale l'ambiente attraverso questi sensori ti analizzava e dopo di che c'era tutto un sistema di interazione tra big data machine learning e quindi intelligenza artificiale che andava a proporti quell'ambiente sonoro in modo tale da accompagnare questo questo tuo essere in quel momento in quell'ambiente che è un elemento fondamentale e fantastico se uno lo lo pensa anche a non solo un ambiente sonoro dove io entro dentro a scottomusica ma anche in un ambiente espositivo un ambiente installativo ma anche un ambiente domestico perché parlavamo di domotica anche della possibilità di applicare tutto questo dentro le mura e poi ci abbiamo avuto quella piccola parentesi in cui appunto sembrava che addirittura questa stanza sensibile questa iosenta andava a finire addirittura intorno all'orbita terrestre praticamente grazie all'interesse che c'era stata appunto da parte di nasa roscosmos e poi va bene le cose hanno preso strade diverse altre altre situazioni altre altre situazioni regole non sca esattamente e cioè immersiva c'è il nostro nuovo progetto folle tanto per cambiare che se posso dire una cosa della mia vita che non rimpiango magari forse sì un po' più in sincrono con i tempi avrei potuto essere però è molto bello stare sempre all'avanguardia cercare di portare al maggior numero di persone possibili qualcosa di nuovo è una fortuna che ho avuto prima con un digidesign poi con apogia anche portare innanzitutto la conversione da una logica digitale quindi un certo tipo di qualità nel digitale è stato bello e poi il 3D adesso con immersiva proveremo a fare una mega stanza sensibile che non sarà una stanza ma sarà un mega ambiente un vero e proprio centro multisensoriale che porterà alle estreme conseguenze il feedback motivo di cui ti parlavo prima perché avrò la fortuna di lavorare con persone del calibro di Martino Chiti Nicola Buttari Matteo e agli altri che sono gli esperti che si occuperanno del video degli odori cioè ci sarà ognuno diversi esperti che si occuperanno dei vari sensi ci sarà addirittura anche la possibilità di gustare alcune cose relative al tema di cui andremo a trattare in immersiva e avere un'esperienza multisensoriale completa qualcosa che ti porta a fare dei ragionamenti delle considerazioni abbastanza pesanti e serie che solvorerei adesso per non dare un tono troppo serioso alla nostra amabile conversazione innanzitutto diciamo che questa realtà in realtà non è un progetto ancora da realizzare ma è una cosa reale che esiste e che si sta praticamente sviluppando a Livorno grazie soprattutto alla concertazione di tutta una serie di attori sia dell'industria culturale che dell'industria produttiva dell'industria digitale dell'industria tecnologica cioè questa realtà immersiva è una realtà che mette insieme tanti professionisti è una sorta di incubatore delle arti digitali in cui musica video appunto spazi interazione intelligenza artificiale trovano il loro la loro dimensione e sono a disposizione di artisti ma anche di studenti di studiosi di professionisti che vogliono sperimentare questo nuovo modo di fare arte no? Quello che mi ha subito convinto negli altri soci in questa avventura che sono Andrea Cecconi Moreno Toigo e il mio socio amico collaboratore più o meno appena metta Maurizio Fontanelli di ITEC che salutiamo Maurizio e praticamente è stata proprio la loro voglia di fare un qualcosa non solo per spirito competitivo o economico che poi c'è logicamente non è che ci stiamo a nascondere dietro a un dito però credetemi c'è una forte componente veramente umanistica e di ricerca dell'avanzamento tecnologico di portare nella zona di Livorno che è una zona fra le cose anche di crisi complessa la nostra città che tutti noi amiamo abbiamo solo un pisano nella squadra e lo facciamo apposta perché per sfatare il miso livornese vabbè a parte quello a parte scherzi è un qualcosa che facciamo per la città vogliamo mettere in piedi un qualcosa che non sarà soltanto un centro da vedere da ascoltare da vivere ma anche un qualcosa per i ragazzi per i ricercatori per le ditte vogliamo mettere insieme un motore proprio che porti avanti la tecnologia e la renda la porti alle persone e la renda anche raggiungibile e utilizzabile da chi vuol fare ancora un mestiere in questo settore prima che se lo portino via con la camicia di forza perché lavorare nel nostro settore di questi tempi non è che sia una scelta vabbè però ci sono tanti temerari nel mondo vabbè certo io la cosa che mi è sempre piaciuto di te è questa versione trasversale che hai della della tecnologia io mi ricordo anche quel bellissimo progetto di quel videogioco sulla città di Livorno che tu alla fin fine avevi la visione di una realtà aumentata della della città di Livorno dove potevi per gioco ma per professione cominciare a sviluppare una serie di contenuti contenuti audiovisivi contenuti artistici e creando un spazio enorme dove tutti volendo potevano entrare e portare il loro contributo infatti e questo ci porta alla questione per cui noi ci siamo trovati fin da subito benissimo e abbiamo abbracciato diversi progetti insieme cioè il ruolo reale che ha questa tecnologia oggi perché noi stiamo andando spesso in una serie di iper specializzazioni delle tecnologie per cui c'è quella tecnologia che ti permette di fare quella specifica funzione in quel specifico contesto cioè stiamo targhettizzando tantissimo la tecnologia musicale mentre una cosa appunto che mi piaceva era che l'idea di base che c'era in tutte queste novità era che questa tecnologia poteva essere disponibile anche per una persona che non ne sapeva assolutamente nulla ma che poteva dare il suo contributo così come lo dava anche un mega professionista un professionista iper iper specializzato no? Sono sempre stato convinto che se fai un'innovazione e la lasci nelle mani di 3-4 persone di poche persone non hai innovato niente scusami il gioco di parole la brutta frase brutta parola cioè un'innovazione deve essere un qualcosa che tutti abbracciano e tutti sono in grado di portare avanti modificare contribuire a non ha senso se 3-4 persone riescono a fare una cosa mi interessa che 3 milioni di persone riescano a goderne più o meno poi deve essere una cosa anche non è giusto neanche l'innovazione a tutti i costi ci sono tante cose ottime nel passato che avrebbero bisogno anzi mi fai venire in mente il buon michael gerzon che tutti adesso si riempiono la bocca con ambisonics spazializzazione immersività e lui già aveva fatto il suo sistema cube di ambisonic nel 77 se ricordo bene comunque queste tecnologie che adesso sbandierano come innovazione sono una cosa vecchissima ma ti ricordi lo stesso il sistema fantasy sound della disney per il per film fantasia che quelli che siamo ancora ancora prima che ti davano questa possibilità di avere questo suono questa spazializzazione certo manovrata da determinate persone istruite eccetera eccetera ma lì già ti portavano avanti cioè ci sono stati visionari fantastici la stoccausen nel 53 la gioventù adesso non mi ricordo il tedesco per me è come che non riesco proprio a pronunciare comunque aveva già fatto un sistema che prevedeva di essere utilizzato per la sua opera e consisteva appunto in quattro diffusori messi guarda caso nella stessa posizione dove poi Dolby ha messo il left right left surround e right surround ma anche andando più indietro russolo nei primi anni del 1900 ma anche la polifonia con la contrapposizione dei cori il senso di spazialità è sempre stato un qualcosa di intrinseco diciamo così anche la disposizione orchestrale cioè perché ci sono motivi fisici che non si possono ammocchiare tutti in un canale quello non c'entrano però insomma la disposizione poi veniva sempre rispettata modificata aggiornata resa come uno strumento creativo dai vari compositori anche giostrando le posizioni dei vari musicisti insomma è sempre esistito il discorso di spazializzazione della musica adesso noi abbiamo assistito in questi ultimi anni a fiorire di qualunque cosa che con l'etichetta di audio 3D praticamente quindi abbiamo visto tecnologie in qualche modo missaggi musica organizzata per essere 3D 4D 5D 6D 7D tra poco uscirà la musica 30D praticamente esattamente però io mi ricordo sempre sempre uno più di te di esatto sempre uno più di ma sai che sarebbe vincente che tu fai come si chiama la nuova società uno più di te di praticamente e quindi a quel punto hai vinto perché stai sempre un di avanti agli altri praticamente no? giorno diremo un bel D vedremo praticamente senti ma vogliamo parlarlo di effettivamente di questa spazializzazione audio 3D perché ti ricordi noi abbiamo fatto insieme anche diversi seminari lì anche alla forum dove ti ricordi grazie anche a Midiware che ci fornì quel sistema Genelec fantastico riuscimmo a ricreare per tutti gli allievi di sound engineering audio engineering sound designing ma anche di musica da film questa sorta di stanza nella stanza dove l'audio veniva rispazializzato grazie a quella tua fantastica applicazione creando queste situazioni per cui alla fine vennero molte idee interessanti quali appunto comporre direttamente nello spazio musicale posizionando sorgenti sorgenti in movimento ti ricordi fu un'esperienza bellissima perché tutto questo riportare la domanda che mi fanno sempre quando qualcuno che è in produzione musicale si avvicina a questa cosa dice ma se io riprendo tutto il repertorio stereo e lo rifaccio no no non esiste perché è una un'opera d'arte pensata per essere riprodotta con una determinata tecnologia in un certo modo costruita in quel modo e quindi si snatura completamente si viene a creare un qualcosa che è una cosa che non rispetta nemmeno la volontà del compositore delle persone che hanno lavorato a quell'opera invece dobbiamo cominciare a pensare e a comporre e a creare in multicanale cioè avere più immagini sonore perché si può anche semplificare così un ambiente multicanale potrebbero essere varie immagini stereo che si compenetrano e si mescolano fra di loro però a livello compositivo si può anche semplicemente immaginarlo pensando alle quattro pareti come quattro paesaggi quattro soundscape che convivono e si scambiano la posizione predominante nel moon un po' come le fughe di Bach durante lo svolgimento della spazializzazione con in più anche la parte alta e il basso per creare questa questa sensazione di avvolgimi con una vecchia pubblicità mi ricordo questa sensazione di assorbimento che mi faceva ridere da morire però anche lì bisogna stare attenti perché anche creando in questo modo è facile cadere nel preda dell'entusiasmo e cominciare a far muovere troppe cose contemporaneamente come spesso mi sono sentito chiedere quando a volte sono andato a fare da fonico o da assistente alla spazializzazione per compositori e non ci si rende conto che poi nella realtà invece non si muovono mai tante cose in quel modo lì contemporaneamente quando succede ci sentiamo male perché la sensazione poi è quella di nausea il nostro cervello non ce la fa seguire tante cose che si espostano velocemente nello stesso tempo quindi il risultato finale della spazializzazione è qualcosa di spiacevole cioè il contrario di quello che vogliamo ottenere è molto più bello invece guardare la spazializzazione come un sistema che ci permette di allargare il nostro spazio sonoro la nostra finestra sull'ambiente musicale o addirittura se abbiamo la fortuna adesso poi magari accenniamo di avere un sistema di architettura come quello di di acoustic possibilità di essere anche all'interno del soundscape veramente allora a quel punto sì cominciamo a parlare di spazializzazione fatta bene perché abbiamo delle posizioni nello spazio che possiamo apprezzare e ascoltare con anche dei movimenti ma dei movimenti ragionati cioè non ha senso prendere un violino e cominciare a farlo correre in giro per la stanza cioè immaginatevi il povero musicista cioè si può fare con un rumore si può fare se bisogna assimulare un qualcosa che poi anche quando si usa sintesi per fare suoni sempre abbiamo dei riferimenti qui scomodiamo Aristotele delle immagini cioè c'è sempre un riferimento verso un qualcosa ma tu ti ricordi quando c'erano le sperimentazioni che faceva Benny Trois con la sintesi granulare per cui c'era questa quadrifonia dove c'era il brano mi ricordo Turinas dove ovviamente c'era questa sorta di cursore che sentiva che ti girava intorno praticamente e l'effetto era molto particolare nel senso era molto interessante però difficile anche da perché era anche un brano molto lungo difficile da digerire tutto sto tempo sto cursore che girava intorno praticamente stato inflazionato da morire quindi non ne posso più di questo scherzo con i miei figli gli dico che il mio lavoro è far girare le palle perché sono sempre software però basta dai adesso ricreiamo un po' di ambienti come si deve e facciamo muovere un qualcosa con un fine creativo con un fine anche comunicativo cioè se un suono si muove deve esserci un motivo artistico per cui vuoi veicolare un messaggio ci deve essere una guarda perché poi sto andando a ruota libera non so se mi vedo non so se va bene o se sto facendo vai vai tranquillissimo faccio il mio solito recentemente mi ho fatto un lavoro con i ragazzi di immersiva che è risultato molto bene è piaciuto molto alle persone a Livorno era una delle proiezioni dove mi è risultato impossibile fare spazializzazioni proprio per motivi logistici di struttura di come era strutturato questo posto dove erano le persone che erano sopra un cavalcavia e ho fatto uno stereo molto largo con dei trucchetti diciamocelo non ho difficoltà nel metterlo di fase anche per cercare di far arrivare infatti alcuni del pubblico come hanno detto ma l'hai fatto uguale della spazializzazione se no quella era una sensazione tua ma in realtà ecco e quindi perché volevo dire questo per dire che alle volte non è necessario neanche andare a fare cose incredibili quando magari la struttura stessa del messaggio che si intende veicolare è sufficiente una tecnologia inferiore che può ugualmente essere utile al fine principale che è quello appunto artistico della trasmissione di un concetto e di creazione di un livello di empatia col pubblico e quindi benvenga anche una tecnologia tradizionale se usata nella maniera giusta e se fine allo scopo che ci siamo prefissi quindi benvenga all'austera era come quando distribuivo digital design che mi venivano di fare convincimi a comprare Pro Tools ma te cosa vuoi il lavoro ce li porti in fondo sì allora non te lo comprare con disperazione degli allure poi invece lo compravano con più volentieri e tutto però il concetto era se riesci ad arrivare lo scopo è il raggiungimento della strada più breve fra l'idea e la concretizzazione dell'idea in termini espressivi che siano condivisibili con gli altri se quello spazio lo riduci già con quello che usi non c'è bisogno di prendere una macchina stratosferica che magari poi hai difficoltà ad usare e quello spazio lì lo allunga anche nel tempo e anche nella freschezza diciamo così di trasposizione dell'idea perché più tempo passa a spippolare su queste macchine infernali più l'ispirazione originale si allontana certo ma adesso è visto che tra l'altro abbiamo anche questa idea della spazializzazione si sta spostando anche sulle librerie sonore per esempio la Vienna Symphonic Library è stata un po' la prima a credere nel cominciare a creare delle librerie di tipo commerciale con la spazializzazione 3D quindi con un concetto quello della spazializzazione 3D legato proprio al fatto di avere ovviamente anche un sistema di riferimento sonoro in audio 3D loro adesso nelle librerie della Synchron ci sono delle librerie Synchron che tecnicamente ti offrono due tipi di approcci un approccio chiaramente stereofonico e quelli sono quelli standard o nelle full library hai questo ascolto ascolto completamente diverso con ovviamente una spazializzazione un uso di una microfonazione completamente diversa e adesso guarda ti faccio vedere una immagine è proprio lì che sta la spazializzazione non sono solo suoni in un ambiente è l'ambiente che ospita quei suoni che concorre alla spazializzazione è una componente fondamentale quindi adesso sto scaricando l'immagine così la vediamo eccola qui vediamo eccoci perché per esempio ti ricordi tra i tanti progetti che c'è praticamente in io sento è anche quello della produzione sonora di materiale che poi possa essere modificato plasmato nelle tecnologie utilizzando un sistema completamente diverso ecco questo adesso andiamo a condividere un attimo l'immagine io ho trovato che questa idea per esempio della Vienna sia eccola qui un'idea molto molto interessante dove vedi fanno vedere il livello il livello principale che noi stiamo utilizzando è un sistema surround 5.1 che però è organizzato su un piano giustamente mentre invece loro con sistema 3D audio che loro chiamano Auro 9.1 portano sostanzialmente qui loro li dividono in due di livelli per cui portano il livello 0 e il livello a 40 gradi in questo modo creano un sistema di suono che ti arriva ti immerge nella diffusione sonora dandoti veramente l'impressione di stare lì seduto in prima fila a vedere questo questo elemento no? eccoci qua siamo ancora collegati ok abbiamo qualche problemino qualche problemino di internet aspettiamo che Luigi si riconnette stiamo parlando con l'amico Luigi Luigi Agostini stiamo parlando di realtà immersiva sonora Luigi è specializzato in tecnologie che riguardano la diffusione sonora in audio in audio 3D e è autore di numerosi progetti molto interessanti quali immersiva la stanza io sento e stavamo parlando di come questa idea della diffusione sonora si stia diffondendo anche nelle tecnologie nelle tecnologie che offrono riproduzioni sonore anche e parlavamo della Vienna Symphonic Library come una delle tante società che sta cominciando a investire in questo discorso di una realtà immersiva sonora ed è una delle prime ad offrire delle librerie in un sistema 3D un sistema che è in grado di darci la percezione di essere all'interno di un ambiente adesso speriamo che Luigi riesca a riconnettersi il prima possibile con noi e io intanto saluto tutti coloro che si sono connessi e ci hanno praticamente scritto vediamo eccoci qua siamo ancora connessi e saluto Carlo Chiarotti Danilo Russi Carlo tra parente avremo una diretta con lui mercoledì mercoledì sera saluto anche gli amici di Luigi che si sono connessi speriamo che Luigi risolva presto il collegamento i problemi di collegamento internet e torni e torni con noi e nel frattempo volevo dire che con Luigi stiamo progettando un intervento didattico molto importante in questa realtà che è nata a Livorno e che si chiama immersiva è un ambiente che darà modo a studenti ricercatori universitari ma anche compositori di sperimentare appunto che cosa vuol dire creare un sistema che è in grado di interagire con l'ascoltatore con lo spettatore che decide di essere all'interno di questo ambiente quindi chiaramente porta a trovare una grande interazione tra che cosa? tra quelli che sono gli elementi musicali gli elementi sonori gli elementi spaziali e soprattutto l'interazione vediamo se Luigi riesce a riconnettersi con noi e per quanto riguarda il il progetto di Io Sento Io Sento nasceva soprattutto con un'idea molto importante quella anche di offrire ecco Luigi che ritorna di offrire la possibilità di appunto trasferire una conoscenza molto importante delle delle tecnologie a un livello più comunitario più unito allora Luigi bentornato io nel frattempo stavo raccontando un po' di altre cosine in attesa che ti riconnettessi abbiamo avuto un po' di problemi è accaduta è accaduta proprio la connessione esatto esatto ma sono cose che succedono praticamente quando si arriva la sera stavamo dicendo di queste librerie delle librerie possibilità di fare campionamenti che era un altro dei progetti che abbiamo all'interno ovvero di poter definire delle 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 sonorità che poi possono essere utilizzati all'interno di sequencer all'interno di elementi musicali anche di interazione dal vivo ti ricordi che riguardava non solo aspetti musicali ma anche aspetti di sound designing per esempio si parlava dell'idea di riprodurre quel suono della pioggia che non fosse un suono a natura stereofonica ma che sia fosse un suono particellare in cui ogni singolo tra virgolette grano solo oro avevano una connotazione spaziale molto molto precisa in questo guarda mi dai l'occasione di parlare dell'ultima cosa in cui mi trovo coinvolto che mi affascina da morire abbiamo speso l'ultimo anno anno e mezzo con Maurizio Fontanelli in ITEC per mettere in piedi l'unica stanza presente in Europa per far sentire e sperimentare con questa tecnologia che si chiama architettura elettroacustica è una cosa anche semplice se vuoi te la spiego velocissimamente praticamente la acoustic di Boston sono titolari di un brevetto che annulla completamente il feedback il mio amico Steve Barbare nelle fiere si diverte a mettere il microfono sulla cassa tutti fanno queste facce sono in orridi alcuni scappano invece non succede assolutamente niente perché hanno completamente soppresso il feedback e questo gli permette di avere un sistema costantemente aperto con dei microfoni panoramici di ottima qualità su un sistema di riproduzione contemporaneo che manda nell'ambiente oltre alla spazializzazione oltre alla riverberazione anche la presenza stessa delle persone che stanno ascoltando questo porta la sensazione di presenza la propriocezione dell'ascoltatore nell'ambiente a dei livelli finora irraggiungibili e la cosa bella è che funziona anche all'aperto quindi si possono realizzare ah guarda aspetta mi ero preparato spero non caschi la linea una cosa bellissima da farti vedere che è un'installazione che l'Icusti che ha fatto a Chicago se riesco arriva Silvio arrivano ecco allora ci sono quali installazioni la sala di Netflix piccola università la sala di Sweetwater che hanno fatto laggiù adesso dovremmo arrivare ecco questo che forse qua non si apprezza bene perché è visto dal palco ma è uno spazio completamente all'aperto un palco una profondità di 500 metri io ti assicuro che con questa tensostruttura il sistema di acustica installato le persone che sono qua sotto il palco sentono la stessa cosa identica che sente una persona 500 metri in fondo alla platea e è una roba incredibile che fra altre cose è stata un po' rovinata dall'arrivo del virus che doveva essere celebrata fra altre cose in questi giorni proprio a Chicago con una riedizione ampliata del sistema perché è diventata proprio non soltanto una cosa funzionale ma una vera e propria attrazione turistica in questo padiglione non solo fanno concerti non solo riproducono ma ci sono anche paesaggi sonori in riproduzione durante il giorno una roba bellissima e questa è la nuova frontiera diciamo così della spazializzazione cioè quando in un ambiente non ci si limita a posizionare dei suoni magari farli muovere dare un'ambienza dove i suoni che immettiamo digitalmente hanno una loro ragione d'essere eccetera le persone tutte queste persone che vedete in questo ambiente sono immerse e fanno parte della spazializzazione e questo è quello che stiamo cercando di riprodurre in immersiva cioè cercheremo di fare un qualcosa che permetta non solo di ascoltare ma di essere presenti e parte del dei soundscape che andremo a creare e questo dobbiamo ringraziare i due geni Steve Barber e David Grisinger che non paghi di aver fatto il lexicon il riverbo lexicon che si sono divertiti poi anche successivamente a sviluppare questa tecnologia ma come dicevi questa stanza che l'altra volta vedevo il post è già pronta cioè si può praticamente visionare si può andare si può provare si può sperimentare è un ambiente creato ad hoc che sta in Toscana praticamente eccola qui 32 diffusori le genelle che vedete al centro non sono fanno parte dell'impianto acustico ma sono soltanto per rimettere dei suoni cioè abbiamo una demo dove abbiamo contrabbasso violoncello viola violino e un cantante al centro perché fra le altre cose la sala il buon Steve Barber che è venuto a tararla e a sistemarla con noi si è divertito a dividerla in due zone dove vedete le genelle che praticamente è il palco e l'altra parte della sala è la platea e possiamo far sentire distintamente proprio la diversa ambientazione perché non si può parlare di riverberazione e basta cioè la sensazione che si prova stando dove sono le genelle oppure su una di quelle sedie addirittura io mi diverto a portare fuori le persone mentre c'è una demo in corso all'interno della stanza perché da fuori da oltre le tende si ha la sensazione che sia in un teatro quando cammini nel foyer o nei corridoi laterali senti che dentro c'è un ambiente di teatro la stessa cosa avviene anche da noi in ITEC e serve a rendersi conto che effettivamente non è un riverbero in mandata come si può fare con qualsiasi sistema in quel momento lì in quella stanza c'è veramente una simulazione di ambiente a tutti gli effetti insomma una cosa realistica che poi mi dicevi che questo sistema è anche utilizzato per correggere in qualche modo l'acustica di ambienti dove è noto che non si può intervenire a livello strutturale vedi per esempio i vecchi auditorium le vecchie sale concerto che ci sono in Italia dove tu non puoi cambiare nulla a livello architettonico perché sennò rischi di buttare giù un teatro un auditorium e rifarlo da capo a me piace sempre essere chiaro e onesto in quello che dico l'energia non si può ancora togliere in modo efficace quindi se si parte da un ambiente con dei lavori passivi riportato a un tempo di riverbero sufficientemente basso poi allora si possono creare varie configurazioni che Steve chiama preset ma sono veri e propri lavori di acustica e allora avere un ambiente polifunzionale dove si può fare la prosa come la musica da camera la sinfonica quello che si vuole in poche parole è ottimo anche per sale conferenze e cose di questo genere dove non c'è assolutamente riverbero ma si ha una distribuzione di campo uniforme questa è una bella altra storia diciamo comunque in un ambiente di questo genere si può dare nuova vita all'avenio al teatro a quello che è dandogli modo di essere utilizzato con successo in generi completamente diversi mentre magari con dei lavori tradizionali anche se ci sono questi pannelli mobili che poi proprio di tanto non si riesce qui si passa da 1,7 a 8 secondi di riverberazione all'interno dell'ambiente sì quindi praticamente come? dicevo all'interno dell'ambiente questa sala demo possiamo fare ascoltare vari preset con il tempo di riverberazione più basso è un secondo e 7 poi invece c'è l'ultimo che abbiamo dovuto insistere con Steve per farcelo mettere perché è un po' una cosa però mi ricorda moltissimo il tempo di riverberazione che abbiamo nel battistero a Pisa quindi è una cosa naturale che infatti ce l'ho portato e gli ho fatto sentire diciamo va bene allora possiamo anche giustificare che è un po' l'effetto chiesa classico certo poi se comunque andiamo a vedere tu parti da quei tempi considerati ottimali del riverberazione che sono un secondo e 8 un secondo e 9 sulle sali da concerto e poi arrivi all'Albert Hall che sta a Londra che quello lì supera sembra quasi che sta dentro una cattedrale perché supera i 5 e 5 se non mi ricordo male come tempo di riverberazione quindi non è così sbagliato proporre dei preset che hanno tempi così lunghi però è un po' a me non piacciono i trucchi cioè è una cosa molto evidente pronunciata un po' da esagerazione invece molto bello io faccio la demo che faccio spesso e volentieri è parlare come stiamo facendo adesso a un certo punto senza avvisare nessuno spengerlo completamente le facce che fanno le persone sono già una cosa bellissima e mi evita di parlare proprio perché capiscono le persone stesse da sole l'importanza di un sistema del genere anche quando magari la riverberazione è breve e loro si sono abituati a sentirla poi spengerla e riportare l'ambiente a quelle tende che vedi è una roba cioè mi ricordo Petra Magoni che è venuta a sentire il sistema cantava Steve gli ha spento improvviso lei ha fatto no perché mi fai quasi con dispiacere dolore che è una cosa è una cosa molto bella questa è una stanza che giustamente si può prenotare una demo per capire come suona eccetera giusto? cioè è già attiva anche per fare esperimenti volendo io mi sta appassionando tantissimo la cosa che Steve mi ha chiesto di provare i miei algoritmi all'interno di questa meraviglia quindi sto cercando di trovare la quadra giusta perché non è semplice perché quando si fa riverberazione così ritorniamo anche un po' sulla spazializzazione la riverberazione di questi elementi che andiamo a immettere nel soundscape non è una cosa semplice da realizzare come puoi bene immaginare e fare delle approssimazioni in questo momento che non abbiamo ancora macchine abbastanza potenti per ricreare le code dei riverberi è quasi controproducente cioè la spazializzazione è peggiora se non fai un qualcosa di veramente realistico non vai a fare calcoli di un certo tipo e a considerare i materiali gli ostacoli cioè sono tutta una serie di cose che purtroppo adesso rendono il calcolo della spazializzazione molto molto ancora molto pesante nonostante la velocità delle nuove macchine l'ultimo lavoro che sto facendo che mi sta assorbendo in maniera incredibile sono per decinesi è un 64 in 64 out e hanno preteso una matrice con 7 equalizzatori delay volume un carico bestiale di DSP e non ci si fa non c'è io mi sono dovuto rendere a sacrificare alcune parti dell'algoritmo perché non non c'era verso di farli entrare in una macchina che è un 10 core fra le altre cose quindi con multitrading però i calcoli sono ancora molto pesanti se fatti bene quindi allora ben venga invece una tecnologia come questa dove puoi stando attento a cosa fai in spazializzazione ottenere dei risultati molto spettacolari diciamo proprio la parola giusta è quella mescolando appunto l'architettura elettroacustica con la spazializzazione infatti non vedo l'ora di avere immersiva fatta perché una cosa abbastanza divertente perché tanto poi questo tipo di tecnologia verrà installata anche lì immagino verrà portata all'interno di quell'ambiente è stata inserita e dovrebbe essere inserita adesso vedremo perché poi anche il buon Steve è una fuscina di idee di Grising che stanno sempre a fare cose nuove cambiamenti non so se sarà questa generazione o la prossima che stanno mandando in delle direzioni incredibili a quel punto se vedrà la luce immersiva come pensiamo non prima del prossimo o alla fine del prossimo anno può darsi anche che sia la quarta generazione da essere inserita anche perché poi vedi stanno comunque le indicazioni che arrivano anche dal mercato nel mondo della tecnologia parlano di questi nuovi computer questi nuovi processori molto interessante esattamente alcuni sono sono strutture quantistiche altri per esempio vedi oggi io non ho avuto modo e tempo di seguire nulla perché chiaramente avevo le mie belle dieci ore quotidiane di didattica online però vedi queste indicazioni per esempio di apple che sta annunciando un po' che forse ha trovato un modo per cambiare i loro processori con questi nuovi ARM che addirittura potrebbero arrivare ad avere 80 core all'interno insomma potrebbero essere macchine molto interessanti anche se potremmo capirlo solamente fra qualche anno ma magari queste sono le nuove generazioni di macchine che magari ci riescono a far superare questo limite del calcolo oneroso chi lo sa certo che sarà anche da io lo sto proponendo quando parliamo fra noi appassionati di spazializzazione così anche all'estero sarà da rivedere un po' tutto l'approccio perché adesso c'è una gara che a me non piace perché no preferisco la collaborazione alla competizione spinta tutti alla far la gara alla tecnologia assoluta che è quella migliore che è quella che bisogna invece i ricercatori tutti quelli che lavorano concretamente in spazializzazione sanno benissimo che la soluzione è nell'ibrido nell'ibridazione di varie tecnologie e nel considerare le sorgenti che vengono immesse nel campo in modo selettivo cioè andando a risalire addirittura alla microfonazione che è stata usata per registrarle perché un conto è mettere un suono close micing in un ambiente è un conto un suono che ha già una sua caratteristica d'ambiente per non parlare di riverberazione e cose di questo genere non si può pretendere che una tecnologia sia l'olio nel lume per qualsiasi tipo di suono che è compreso in questo range che vi ho appena detto bisognerà per forza a prevedere una struttura di montaggio che poi anche i software che sono adesso fuori sono pensati per lo stereo se ritorno al discorso della composizione che ripeti sono pensati in stereo anche i software sono pensati in stereo invece dobbiamo cominciare come ci sono alcuni esempi ottimi nel software per i videogiochi come F-Mode eccetera dobbiamo cominciare a pensare in multicanale e non in seriale fra le altre cose tra l'altro proprio il mondo dei videogiochi sembra che ci dà la spinta maggiore per andare in quella direzione perché adesso il mondo dei videogiochi tecnicamente è l'ultimo arrivato nel discorso di produzione sonora produzione musicale rispetto ad altri settori vedi il cinema vedi il teatro eccetera eccetera però è quello che ha avuto uno sviluppo incredibile molto veloce sulle tecnologie perché se noi pensiamo che Pong quel sistema dell'Atari in cui c'erano i due sistemi che giocavano a tennis o a calcio tutto sommato non mi ricordo mi sembra che dovrebbe essere il 76 77 esatto e se oggi noi ascoltiamo è stato qualche giorno fa che hanno presentato Unreal 5 dove c'era questa demo con questo sonoro immersivo che ha fatto paura a tanti nel senso per dire caspita sembra che c'è proprio un salto enorme in questo senso no? Sì infatti ma sono gli ultimi arrivati ma sono anche quelli più avanzati come software come ambienti di lavoro per il multicanale bisognerebbe portare un po' di algoritmi seri pesanti in quella logica operativa adesso incomincierebbe a vedere delle belle può darsi anche che in Unreal Engine 5 abbiano fatto qualche passavanti ancora non ho avuto tempo di metterci le mani sopra sì io pure a parte delle demo però ho visto che c'è questo nuovo algoritmo sull'audio sulla spazializzazione audio che sembra promettere tanto bene tant'è vero che il cinema è già da qualche tempo che strezza l'occhiolino ai software tipo Unreal dove praticamente questo grazie anche appunto all'interazione cioè questo sistema intermedio chiamato audio middleware con il quale io da un sequencer come Cubase eccetera eccetera posso trasferire materiale in questo sistema dove che può essere Fmodo può essere WISE può essere quello che volete voi dove lì ci sono degli algoritmi di proprio spazializzazione audio 3D quando soprattutto la tecnologia interagisce perché tu la puoi richiamare in tanti modi la puoi richiamare attraverso uno script lo puoi richiamare e questa storia dello script sta portando secondo me tutta la composizione avanti perché praticamente dice io ti creo strutture sonore ma poi te le faccio manipolare te le faccio interagire attraverso un codice informatico che sono d'accordo hai ragione però ci stanno trascurando scusami se fa il parruccone ma le norme di base proprio dei concetti di base che sono fondamentali nella spazializzazione e li stanno sacrificando a esigenze commerciali primi fra tutti Dolby con Atmos o anche appunto tutti i sistemi che permettono il movimento di sorgenti stereo in ambienti multicanale se ci pensi bene è uno simolo è una cioè ti stai muovendo una codifica pensata per essere statica in un ambiente dove ci sono altre sorgenti che magari sono fatte correttamente cioè prese mono canale per canale e magari registrate anche in mono e lo muovi lo muovi creando praticamente dei problemi di fase dei problemi di anche natura proprio artistica perché nello stereo si prevede che tu sia davanti a quell'immagine come se fosse un quadro in quella determinata posizione e il suono dovrebbe essere utilizzato in quel modo quando te me lo muovi e me lo fai girare intorno a un ascoltatore che non si è ancora capito bene fra le altre cose come debba tenere la testa questo benedetto ascoltatore perché non solo lo mettono al centro ma anche gli dicono stai fermo in questo modo oppure gli mettono il casco in testa per leggere i movimenti a quel punto lì è inutile che si parli di sistemi mirabolanti calcoli stratosferici se poi alla base poi miniamo proprio il concetto fondamentale della spazializzazione che in un ambiente multicanale prevede l'uso del singolo suono a meno che non si voglia fare appositamente qualcosa di artistico ma se si apre quel vaso di Pandora lì allora tutto è lecito allora prendiamo il 22.2 e mixiamolo in mono come non voglio fare il nome ma qualcuno ha scritto sui suoi manuali e divertiamoci vabbè per quello è un altro discorso se invece andiamo a vedere la teoria cosa prevede e cosa può succedere se non si segue questa teoria diventa un po' per esempio l'ambisonic è un ottimo sistema di registrazione e gli ambienti ambisonic possono essere un'ottima base di partenza per ricreare un ambiente multicanale di spazializzazione ma se me li tieni fermi se me li lasci nella stessa posizione in cui sono registrati e ti sforzi di mettere sui diffusori la mappatura originale dei canali che sono stati usati per fare il reformat allora sì ma se cominci a muovermi un canale o abbassare i volumi o spostarlo facendolo ruotare come ci sono fior fior di plugin che sono in uso plugin VST che si sforzano di far ruotare cambiare posizionare registrazioni ambisoniche bisognerebbe fare un attimino di fare un passo indietro e andare a rivedere un attimino la teoria e prendersi prendere coscienza che anche questa è una tecnologia con i suoi limiti che possono essere solo superati se fai un'ibridazione fra sistemi abbiamo la possibilità di correggere le uscite con delay con volumi con quello che serve analisi timbrica eccetera per adattare un sistema all'altro perché non farlo cioè allora prendiamo le cose fatte per bene le sorgenti in base alla loro caratteristica originaria e facciamo un misto di tecnologie che come qualcuno cattivo potrebbe anche di questo il Livornese può fare un cacciucco non è quello è che quando magari hai bisogno di fare andiamo sul semplice passare un'ambulanza la devi fare in stereo con un bel doppler oppure andare a modificare quel doppler istante per istante nel tempo nella sua posizione facendo una marea di calcoli e sacrificando tutto il sistema di spazializzazione per far passare quell'ambulanza andiamo anche a vedere un attimino le cose in termini pratici mettila su due canali in stereo del sistema complesso che avrà poi quello che avrà come altre tecnologie concomitanti e preoccupa del messaggio artistico cioè di poter anche poi mettere questa ambulanza in una registrazione magari ambisonica statica di una città dove poi ti potrai divertire a far muovere una persona un protagonista o un'altra cosa per quindi raccontare una storia durante la quale passa anche un'ambulanza cioè ci vuole anche un minimo di lungimiranza di pensare a cosa dobbiamo fare non è che non deve essere un esercizio sterile di utilizzo delle tecnologie tanto per far vedere che abbiamo usato il 22.2 e abbiamo usato un'anale eccetera eccetera deve essere sempre fine all'espressione artistica alla realizzazione io la penso così non ma siamo perfettamente allineati nel senso che poi alla fine la troppa complicazione poi porta all'effetto esattamente opposto perché alla fine poi per poter risentire quella situazione in quell'ambiente poi devo andare in posti specifici esatto e quindi perdo anche quella che è la possibilità la concezione di un sistema che potrei avere invece dentro casa un sistema che ti semplifica questa questa diffusione questa spazializzazione stando comodamente seduto sul divano invece che fa 400 700 1000 km e andare in un paviglione della che ne so della Biennale di Venezia piuttosto che da un'altra parte per assistere a queste fenomenologie che praticamente complicano cioè vanno a finire sulla nicchia della nicchia della nicchia della nicchia e poi parte l'idea che per fare questa cosa bisogna spendere dei capitali mostruosi perfettamente d'accordo anche perché poi se noi vogliamo che effettivamente cambi un modo una cultura anche della percezione sonora e anche della diffusione perché oltre al problema della diffusione c'è anche quello della percezione chiaramente dobbiamo secondo me come dicevi anche tu ne parlavamo al telefono l'altro giorno dobbiamo semplificarla questa tecnologia cioè renderla in modo tale che sia più fruibile in maniera più possibile no? Cioè vedete sto andando già a caricarlo una delle cose più belle che ho fatto in questi ultimi anni ora è peccato che col virus abbiamo dovuto sospendere tutto e avevamo pensa più di 40 scuole in prenotazione che volevano partecipare eccolo qua le passeggiate sonore con le scuole liguarnese questi bambini ragazzi perché andavano dalle elementari fino alle medie hanno una sensibilità un'apertura verso l'ascolto che gli adulti purtroppo si sogna hanno perso molto tempo fa la speranza nostra sono le generazioni dei più piccoli la speranza nostra e appunto si parlava di percezione di quello ci credo tantissimo io ci metto in prima persona a cercare di migliorare la capacità di ascolto e l'unica cosa da fare è partire appunto dalle scuole però questi bambini mi ricordo potrei raccontare tantissimi aneddoti risposte che mi hanno date incredibili che magari sono andato a fare seminari ad archiviani a fonici questi niente cercare di spiegargli perché è importante l'ascolto in un certo modo ma di un certo tipo invece questi bambini sanno la mente vi faccio sempre il koan che adesso non mi ricordo se è cinese o giapponese il famoso discorso dell'albero che cade nella foresta se non c'è nessuno a ascoltarlo che può essere anche complicato per bambini dell'alimentare se questa ragazzina mi rispose tranquilla un po' strafottente come dicendo ma sei proprio stupida a fare questa domanda se non c'è nessuno ad ascoltarlo l'aria che si sposta non incontra nessuno e quindi nessuno sente quel suono il suono non c'è sono rimasto venti secondi non sapevo che dirgli pazzesca poi ho scoperto con la maestra che avevano due bambini non udenti nella classe e che lei aveva fatto attività per aiutarli a capire appunto l'importanza del suono cioè magari meno male perché se no questa praticamente era forse una filosofa in erba da grande e poi sarebbe diventata la nuova Murray Schafer che ne so ma guarda ma lo speriamo bene che sti bambini da grandi diventeranno i nuovi scienziati Murray Schafer e cambieranno sto mondo perché veramente io mi comincio a vergognare per la generazione mia per quello che stiamo facendo comunque vabbè questi sono altri discorsi ma è stato bello questa cosa tu praticamente dove li portavi questi bambini in queste passeggiate sonore in giro per Livorno? si vede nella foto all'interno del mercato centrale a Livorno che è una costruzione dei poggianti del 1800 che ha un'acustica particolarissima che noi livornesi fra parte proprio è un sound mark avrebbe detto Murray Schafer particolarissimo che ci rimane proprio dentro lo riconosceremo fra milioni di mercati diversi e è comunque una riverberazione importante che ha una sua timbrica ben precisa allora li porto lì li faccio ascoltare il mercato i rumori del mercato e faccio fare un gioco che devono catturare i suoni riportarli poi da un'altra parte dove andremo fuori c'è un mercato all'aperto li faccio fare la comparazione chiuso, riverberato e aperto con suoni attutiti perché poi sono delle baracchine vestiti in parecchi tendaggi cose di questo genere li faccio camminare lungo i fossi come si chiama sono i canali che a Livorno simulano la Venezia ben più vera e ben più bella di quella che noi chiamiamo Venezia che poi è un rione bello sì d'accordo ma niente a che vedere con l'originale però lì è chiuso il traffico quindi li sensibilizzo un attimino sui problemi dell'inquinamento acustico cose di questo genere anche lì risposte bellissime purtroppo c'è una fase brutta perché tutte le volte li faccio quanti di voi hanno la playstation tutti mancheranno uno o due in ogni classe quanto di voi la usano in cuffia uno due e il volume come lo tenete altissimo e allora lì vabbè ti cade un attimino il miso del bambino sensibile però vabbè è normale poi alla fine li porto all'interno del godone dove ho un sistemino otto canali otto casse l'ho fatto con gli exciser quindi faccio suonare le porte faccio suonare che meraviglia divertono a vedere che la vibrazione fa diventare un oggetto sonoro con qualsiasi cosa che sia rigida e possa essere messa appunto in vibrazione ma tu accetti anche i grandi o li fai solo i bambini piccoli eh magari magari perché se tu li fai se tu li fai anche ai grandi guarda la prossima volta che lo fai io prendo il treno porto io anche i miei figli e lo facciamo casomai mi porto anche una vagonata d'allievi del conservatorio dei vari istituti sicuramente e adesso ci ha bruciato il covid purtroppo già è vero questo è un problema è diventato un problemone di farlo speriamo che in futuro si riesca a tornare anche verso queste cose però questo è interessante perché io è la prima volta che le vedo questi esperimenti di passeggiate sonore perché io mi ricordo che c'è c'è stato un movimento negli anni a partire negli anni 2000 di questi soundscape di queste mappe sonore no? perché non c'è per cui a un certo punto tutti dovevamo fare le mappe sonore io mi ricordo che feci fare anche a qualche allievo mio dell'università di Bologna quando facevo informatica musicale qualche tesi relativamente alle soundscape per cui facevamo la mappa sonora per esempio di un borgo di Bologna piuttosto che e mi ricordo anche che lo stesso nuovo museo delle scienze naturali quello che sta praticamente tra Rovereto e Trento questo nuovo grande ci contattò per dire ma noi vorremmo creare un ambiente che emula l'alta montagna delle De Vomiti di Trento e far sentire tutti i paesaggi sonori possibili da lì tu pensa guarda lo dico qua spero che non c'è nessun amico mio Trentino che mi ascolta e addirittura si entusiasmò talmente tanto la provincia di Trento che invece fa un progetto chiamato Ecologica che era sull'ascolto dei suoni nei rifugi naturali che si trovavano in alta montagna quindi l'idea era di portare queste scuole una settimana lassù in alta montagna e ovviamente non tutta la settimana ma una settimana di ottobre e quindi fargli fare esperienza di paesaggio sonoro di differenza tra quello che era un suono antropico del fondo valle rispetto a un suono naturale più d'alta montagna e per questo fecero cambiare la legge locale trentina che praticamente invece di far chiudere i rifugi a fine settembre li facevano chiudere a fine ottobre quindi questi rifugi in Trentino dovevano rimanere aperti un mese in più e io mi ricordo che stavo facendo un'escursione sul rifugio che stava dietro il dietro Trento in cui c'era questo questo tizio che amministrava che parlava con suo amico e se lamentava del fatto che diceva che c'è doveva essere stato qualche qualche imbecille che aveva fatto cambiare sta legge e io stavo lì zitto perché ho detto guarda se io apro bucca e qualcosa mi prendono e mi buttano giù dal monte praticamente mi rimandano a fondo valle in un battibaleno io penso in realtà sono l'ultimo scapestrato incompetente nel forum clanglanshaft con il quale mi pregio di collaborare da qualche anno persone ben più di alto spessore in questo argomento sono Francesco Michi Albert Mayer il grande Albert Mayer Massimo Liverani Mackie Cena tutti amici con i quali spesso facciamo queste convention dell'FKL dove riusciamo a mettere insieme a volte delle cose bellissime e per qualche anno siamo riusciti anche a portare la spazializzazione quindi qualche soundscape siamo riusciti a renderlo su otto casse in cube come un buon Gerzon avrebbe fatto abbiamo fatto delle buone cose Francesco mi è venuto ad aiutare anche Massimo a volte a fare queste passeggiate a Livorno e sono divertiti tantissimo anche loro vabbè e purtroppo sto sto virus io sono sicuro che supereremo supereremo sicuramente questo momento e torneremo con maggior forza a fare queste queste grandi queste grandi escursioni e senti a proposito delle tante cose che stai facendo stiamo progettando ma vogliamo parlare anche di questa anche avventura di questo software musicale compositivo che in qualche modo ci sta appassionando stiamo stiamo lanciando questa idea di una tecnologia completamente completamente diversa dal dal modo tradizionale di pensare proprio una composizione stiamo parlando di un software che non è nuovo nel senso che comunque è presente già da diverso tempo sul mercato ma che sembra in questo momento arrivare proprio a portare una ventata di novità nel modo in cui si va a comporre musica certo opus modus perché di questo stai parlando è un software sviluppato da Janos Pedreschi insieme al suo team che mi è stato portato diciamo così all'attenzione da Marco Gionmoni una persona squisita di una cultura immensa grande grande compositore scrittore di algoritmi professore di estetica insomma un bel personaggio che però ha una distorsione stranissima che ha fiducia in me tutte queste sue grandi capacità e poi no scherzo dai mi ha coinvolto in questa avventura e sono felicissimo lo ringrazio tantissimo ringrazio te per aver accettato di esserti fatto come voglio nell'ennesima avventura folle faremo ma tu lo sai che a noi ci piacciono le cose folle guarda adesso voglio condividere una foto per farlo vedere magari a persone che non lo conoscono ecco questo è il è il sito è il sito di Opus Modu che è questo software ecco come si può vedere che è molto interessante no perché che non è di notazione musicale esatto non è un software di notazione musicale perché uno come potrebbe pensare dicono ah ma è arrivato un ennesimo software che rifà le stesse cose di finale siberius eccetera invece assolutamente non è così è un sistema di composizione parametrica tra l'altro peccato che non abbiamo qui anche il contributo del maestro Gabriele di Santa Cecilia che lo utilizza all'interno del suo del suo corso di composizione aleatoria dentro il conservatorio di Santa Cecilia e è un è un modo incredibile di pensare un po' la composizione ci riporta per certi versi al perché alcuni che lo hanno visto hanno detto in maniera un po' nostalgica mi sembra di rivedere quegli esperimenti di computer music che si facevano nei primi anni dove partivi dalla scrittura di un codice di un algoritmo e aspettavi l'elaborazione per ottenere un risultato però io ho detto guarda non vi lasciate ingannare da quello che vedete perché è una situazione completamente diversa in questo caso in questo momento noi sappiamo che occorre sviluppare un'interfaccia un eccoci qua scusate ma anche a me internet ha lasciato a piedi stavo stavo dicendo rispetto a che lo ricondivido sento adesso senti? sì ok perfetto è per un momento ma è sparita internet dicevo che in realtà non è quello che sembra perché uno può sembrare che tu devi scrivere semplicemente un codice e questo codice poi va in compilazione per creare una partitura no? invece è qualcosa molto diverso scusami ti sto seguendo ma ho delle difficoltà di ristabilire ok adesso riesci a sentirmi? eccoci ok perfetto ci siamo scusate no 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 figurati dicevamo che questo può sembrare all'apparenza come un unesimo software in cui tu scrivi codice e poi c'è una compilazione per attendere un risultato ma in realtà è un po' diversa rispetto rispetto a quello che può essere l'apparenza no? sì appunto l'apparenza da una sensazione magari di difficoltà che in realtà il software non ha è un software che permette di compiere operazioni che normalmente richiederebbero mesi in pochi minuti e quindi è uno strumento che se inserito diciamo così nella struttura operativa delle macchine di un professionista permette veramente di accelerare il lavoro e di arrivare a dei risultati di altissimo livello in tempi che economicamente e professionalmente sono importanti da raggiungere poi il passo successivo è quello dell'uso creativo perché all'inizio quando Marco mi ha coinvolto in questa cosa io ho avuto la reazione che forse tanti avranno vedendo queste cose ma io un software che sostituisce il musicista non mi piace a me non piace ma devo dire che proprio non avevo capito un tubo quando poi sono entrato un po' meglio nel programma mi sono reso conto che è uno strumento compositivo potentissimo che dipende molto sempre dalla persona che lo sta utilizzando dal come padroneggia tutte queste funzioni che sono messe a disposizione apparentemente in modo filologico e con l'attribuzione al compositore lo stile eccetera in realtà poi sono molto aperte molto trasversali oserei dire cioè si riesce tranquillamente a sperimentare a ottenere risultati inediti in maniera abbastanza veloce ecco ora poi con lo sviluppatore del software abbiamo già cominciato vero Silvia a rompergli le scatole a dirgli ma guarda qui dovresti fare questo quindi pensiamo anche a realizzare un'interfaccia più semplice si sta lavorando su un'interfaccia più semplice ma la cosa bella di questo software è che comunque questo software vede anche i VST instrument vedi il plugin vede qualunque cosa e soprattutto a me piace molto visto il legame che mi lega nel rapporto complesso che c'è tra la matematica e il suono e l'aspetto compositivo piace molto che spesso nell'aspetto iterativo della composizione ci siano molte funzioni matematiche che sono in grado di trasferire dei concetti puramente geometrici in un sistema di orchestrazione di composizione e questo è un legame che è sempre esistito tra la musica la geometria la matematica e questo software ho visto essere fantastico da questo punto di vista perché a me mi è quasi rivenuto il volo di rimettere su un corso di musimatica praticamente basato su questo in modo per sperimentare percezioni costruzioni musicali che fanno riferimento a permutazioni geometriche eccetera ora è chiaro che magari qualcuno che ci sta ascoltando potrà pensare questo è completamente andato vista l'ora e viste le ore che si è fatto di didattica da stamattina però la tecnologia serve come dicevano proprio a questo a creare trasversalità a dare queste possibilità incredibili hai fatto uno degli aspetti più belli di questo software la sorgente che puoi introdurre dalla quale puoi partire per la tua creazione può essere qualsiasi cosa può essere un testo può essere un disegno una partitura ma un filmato cioè veramente una cosa eccezionale e appunto il mezzo il tramite per portare questa sorgente verso la musica è come sempre la matematica la geometria che ricordiamoci la spazializzazione del rapporto con la geometria è quanto mai evidente e importante no è bella cosa ottima cosa e facciamo troppe cose Silvio a volte quando mi chiedono ma che lavoro fai faccio troppe cose per farne bene anche soltanto un e tu potete sempre dire io il lavoro che faccio è essere più più di uno rispetto alle altre allora questo discorso non 3 di 4 di un di sempre più un di sempre più dell'altro sto sempre un di più avanti praticamente non è quello che voglio anzi come si diceva prima il bello è portare queste cose alla gente io mi sono trovato alle volte con persone che ho visto dopo tanti anni che mi hanno detto ma te mi hai consigliato la stazione di Pro Tools fatta bene e quella è la soddisfazione più grande per me quella avere gente che ha lavorato e ha lavorato bene a parte che diciamo facciamo sempre a me piace fare il polemico mai inquadrato i vecchi sistemi digidesign sono imbattibili io avevo un 2ci quindi un 68030 che pilotavano un expansion chassis che era un scatolone nero con dentro due schede di Pro Tools 3DSP Farm 2 sample cell e una nuverbe della Lexicon un 68030 lo accendevo la mattina non si azzardava a dare il minimo problema andare in bomba era una cosa inconcepibile lo spengevi la sera io sono convinto se lo vado a rimontare adesso lo riaccendo lui riparte e questo purtroppo si è perso da quando Mac è andato su Intel il sistema operativo non è più il vecchio System 9 però vecchio io che comincio a fare questo ma 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 lui di che poi è l'altro aspetto un pochettino della tecnologia che la tecnologia quando nasce in un modo e poi per fini commerciali si trasforma in un altro è vero che poi permette a tutti di poterla utilizzare io rimango sempre molto affascinato dal fatto che la tecnologia punti verso il basso cioè punti verso la sua diffusione verso tutte le fasce in qualche modo sociali che esistono per cui alla fin fine un software che prendi un software come adesso facciamo un esempio banale Fluity Loops che tra l'altro ha vinto recentemente il premio sulla tecnologia come migliore come il migliore software perché poi tu dici ma come fa Fluity Loops a essere il migliore software ma stiamo scherzando ma chi è che stabilisce poi vai a vedere è per la sua larga diffusione verso le fasce più basse quindi poi anche il esatto anche il ragazzino che ha 15 anni 14 anni che magari ne sa pochissimo di strutture armoniche contrappuntistiche orchestrali o quello che sia ma comunque manipola informazione sonore riesce a finalizzarle in un prodotto utilizzando una tecnologia semplice che soprattutto gli permette di non fare molti sforzi per apprenderla per manipolarla è come quando arrivò questo con Steve Jobs che fece il primo iPhone un concetto che io in un attimo acquisisco potenzialmente tante competenze ma più che competenze tante abilità tipo l'abilità di scattare delle foto di fare un filmato di poter lavorare in questo strumento tu considera si diceva sempre questi strumenti hanno ucciso certi mestieri ma non è vero perché perché semplicemente dico sempre è vero che tu puoi fare una fotografia con questo ma tra fare una fotografia e essere un fotografo ce ne passa praticamente no? perché questo ti bypassa una serie di problematiche di conoscenze perché lui ti fa un'autofocale un'autoesposizione eccetera però tra qui e fare una bella fotografia ce ne passa e la stessa cosa sulle tecnologie sonore umanizzazione che non mi piace assolutamente cioè è come se fossero esteri senzienti invece sono degli oggetti esatto quello che facciamo con questi dipende da noi non dall'oggetto cioè è il famoso esempio ne parlavamo un po' di giorni fa del coltello che lo usi per mangiare il mano è un assassino diventa uno strumento allora che facciamo non costruiamo più coltelli perché l'assassino lo usa per uccidere lavoriamo sull'assassino cerchiamo di impedirgli di arrivare a tali estremi cioè quindi è lo stesso la tecnologia non è che dobbiamo fermare la tecnologia dobbiamo renderla più umana lavorando su chi la dovrà utilizzare perché anche lì forse ecco un errore va bene portarla a tutti ma portarla a tutti senza responsabilizzare tutti su quello che hanno a loro disposizione quello forse è un tema che bisognerebbe un attimino affrontare con attenzione perché poi si va nel libero arbitrio cioè se uno io lo voglio usare come macchina fotografica che me frega non mi puoi obbligare a vedere in quella macchina lì un sistema grafico un sistema che puoi fare video puoi editare puoi creare è giusto però anche non saperlo completamente è sbagliato secondo me infatti infatti lo vedi che io sto vedendo nel nelle generazioni giovani che approcciano al mondo al mondo delle tecnologie musicali che a differenza degli altri anni c'è una marea di ragazzi che arrivano allo studio delle tecnologie musicali avendo grande difficoltà a usarle nell'insieme base cioè il fatto di comunque usare dei tasti delle combinazioni di tasti di fare delle operazioni semplici che per noi sono l'abc ti fa pensare perché perché alla fine questo sistema si è talmente semplificato che è fatto tutto di touch di allargamento di che poi ti ha portato a pensare che tutta la vita è organizzata così e quindi poi dopo vai a dire guarda che c'è da creare finestre spostarle inserire degli oggetti coprire un oggetto da una parte all'altra aprirlo utilizzare tutta una serie di scorciatoi da tastiera cos'è un tasto funzione un tasto control erano tutti elementi che facevano parte della base della base della base dell'informatica e che oggi non ci stanno più perché la tecnologia stessa sta cambiando e quindi può darsi che bisogna anche ripensarla il modo di creare certa tecnologia base noi avevamo dei target degli obiettivi avevamo le asticelle poste a una certa altezza loro arrivano in una situazione completamente diversa l'asticella nascendo già si trovano al di sopra e hanno altri obiettivi e hanno altri mezzi per raggiungerli poi quanto di buono si perda nel perdere le vecchie abitudini le vecchie tecnologie quello si va nel discorso delle botteghe degli artigiani che una volta passavano il mestiere ai nuovi e adesso non è più possibile però dobbiamo anche noi ammettere che il tempo passa purtroppo e magari i nostri riferimenti sono da rivedere costantemente io guarda faccio faccio outing in un certo senso professionale e confesso che devo studiare un sacco per stare al passo questi ragazzi che stanno arrivando e mi fanno un gran piacere perché sono molto in gamba hanno ancora ci sono le persone che hanno voglia di fare di capire di sperimentare però mi rendo conto che noi riusciamo a stupirci quando scarichiamo qualcosa velocemente perché negli anni 80 di cui parlavamo all'inizio del collegamento per scaricare un'immagine da un mega ci mettevamo 5-6 minuti col modem quindi avendo vissuto quel periodo storico e con il sogno di poter un giorno scaricare velocemente migliaia di mega ora ci appassioniamo a questo ma per le nuove generazioni è una cosa incomprensibile perché questi che fanno quindi vedi bene che siamo un po' non dica rovinati non lo voglio dire ma siamo influenzati diciamo così dal periodo storico in cui siamo poi c'è di buono che noi abbiamo apprezzato apprezziamo di più alcune cose perché come hai detto giustamente te prima abbiamo imparato a sudarcele a faticare magari abbiamo più capacità che però dovremmo anche imparare a passarle queste cose cioè io sono un fan sfegatato della collaborazione a rispetto della competizione poi questo mi porterà anche magari in posizioni spiacevoli a essere magari anche incompreso e a volte perdere considerazione perché magari per il resto del mondo pensa tutto in termini competitivi però andando parecchio all'estero avendo amici all'estero mi sono ritrovato a volte in discussione dove mi fanno eh voi in Italia col metodo Montessori sì che siete avanti gli faccio guarda che sono pochissime le scuole in Italia che lo mettono in pratica pochissime anche quelle che lo sanno addirittura cos'è fino in fondo eccetera no non ci posso credere lo sai che avendo dei figli piccolissimi è da qualche tempo a questa parte che vedo sempre più tecnologie Montessori per quanto riguarda l'infanzia la prima infanzia quindi giochi libri immagini sono tutte metodo Montessori metodo Montessori poi anche quello andrebbe analizzato in maniera critica per l'amore però se già anni luce avanti rispetto al vecchio sistema ma noi lo dicono sempre noi siamo siamo sempre stati un paese di visionari artisti viaggiatori scienziati scopritori avventurieri questa è una una caratteristica che ci ha sempre fatto poi si sa che fine hanno fatto tutti questi si sa praticamente dileguati perché se vedi la struttura sociale attuale tutto ti verrebbe da pensare tranne che questo però anche la la visione romantica dell'artista che ci ha un po' fregato e c'è un po' distrutto il bohemian povero abbandonato e derelitto che deve soffrire per fare questa è una roba che purtroppo non riusciamo a scrollarci di dosso e dai vogliamo parlare non andiamo in politica per l'amore no 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 assolutamente lasciamola perdere perché ci hanno veramente staccato ma senti invece visto che parlavamo dei ragazzi che esperienza stai facendo di a lucca giusto alla scuola di lucca io spero che qualcuno di loro ci abbia seguito li saluto perché sono affezionatissimo a questi ragazzi che sono di varie età io li chiamo ragazzi ma c'è qualcuno quasi la mia età però sono delle persone molto attente oneste ci sono quelli che proprio mi fanno Luigi ma la tua materia è una palla amici ideale non ce la faccio effettivamente quando comincio a spiegare le patch di Max se non sei appassionato di queste cose inizio a vedere un mare di spaghetti però ho avuto la soddisfazione dei ragazzi che dopo poco veramente cominciavano già a padroneggiare il software anche usarli in maniera creativa ma tu che percorso gli fai lì dentro di preciso devo insegnare appunto tecnologie no? tecnologie applicate alla musica quindi sistemi musicali all'interno del back and war di produzione quindi essenzialmente l'insegno Max un po' di più urdata poi perché a me piace spaziare ci sono tanti bei sistemi come Holyoke Usain o anche Scope tedesco faccio decenni anche su queste altre cose però il programma prevedeva la realizzazione di una patch di Max alla fine quindi su quello poi abbiamo insistito anche se Max meriterebbe una serata a parte solo per lui perché è un sistema cioè non è neanche possibile chiamarlo un software un software da quale hanno originato ambienti sistemi una roba molto particolare so che non condividi questa mia passione no 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 ma per carità io non ho nessuna preclusione nelle tecnologie per me la tecnologia è uno strumento che ha a disposizione una persona per creare qualcosa per svolgere un lavoro per dar adito al sistema artistico quindi che si chiami più urdata Max o Cubase a me capia poco sono forse per l'ora tarda ti era sfuggita un'espressione che sembrava di disappunto ma invece no 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 assolutamente stavo ma mi hai fatto quanto chiacchiera no 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 ma magari sei anche bloccata magari sei anche bloccata la connessione ma l'ha lasciato lì in quel momento bene che dici caro Luigi si è fatta si è fatta l'ora tarda e ci sono state molte persone che si sono connesse c'è un Paolo Ferrari a chi che sta dicendo sempre la 442 compro tuzio 1 grazie Luigi quindi quindi comunque ci sono persone che si connettono a queste tecnologie spesso anche loro partecipano ricordando dei momenti che sembrano lontani anni luce no invece sono tutte cose che di cui sono passati 10-20 anni comunque sono sempre dietro l'angolo rispetto a se pensiamo alla musica concreta se pensiamo ai primi soundscape di Schaffer insomma sono tutte cose molto recenti benissimo allora io intanto ti ringrazio non ho capito l'ultima parte però non è arrivata l'audio adesso ti sento ok ok dicevamo che sono tutte tecnologie che sembrano lontane anni luce invece se guardiamo a Schaffer ai futuristi e praticamente alla musica concreta sono cose di ieri di ieri certo va bene sì ti ringrazio enormemente è stata una chiacchierata bellissima io mi sono divertito tantissimo spero anch'io spero che a parte i problemi di internet vari che ci abbiamo avuto anche chi ci ha seguito si sia divertito altrettanto e abbia sentito anche qualcosa che è un po' insolito ascoltare nelle dirette tecnologiche parlare di spazializzazione con un grande persona come te un grande esperto si ha tutti da imparare io per primo praticamente quindi quindi direi che tanto noi ci si vede nei prossimi giorni adesso vedremo di parlare di tutti questi progetti fantastici e di metterli nel concreto grazie ancora grazie ancora Luigi e buonanotte a tutti coloro che ci hanno seguito domani sera c'è un incontro con tre mie tra virgolette ex allievi perché hanno studiato con me in diversi corsi ma sono tre professioniste fantastiche sono Silvia Leonetti Silvia Barbera e Tecla Zorzi sono tre giovani professioniste che lavorano nella musica applicata chi scrive musica chi fa sound design che fa anche musica chi fa dall'assistente dei compositori sono delle ragazze che hanno impegnato tantissimo tanti sacrifici alla loro e hanno dato anima alla loro passione e hanno trovato la strada questo perché sento sempre dire che i ragazzi di oggi non c'è futuro nella musica non c'è che ma chi dice questo non ha capito proprio niente perché in realtà possibilità ci sono ma bisogna impegnarsi tanto bisogna mettere in campo tanta conoscenza tanta abilità avere tanta disponibilità tanta energia positiva ed essere propositiva anche nelle situazioni molto difficili queste ragazze ci sono riuscite alla grandissima e domani raccontiamo un po' il loro percorso facciamo vedere quello che stanno facendo come lo stanno facendo io vi lascio con un augurio speriamo di riuscire Silvio a fare con immersiva questo benedetto centro questo pollo di raccolta e di aiuto per proprio questi talenti che so sicuro te ne hai informati tantissimi ancora tanti ne formerai ma speriamo dobbiamo anche dargli un modo di anche di trovare questo tuo esatto di continuare a metterci energia positiva oltre che nello studio grazie ancora va bene grazie a tutti buonanotte grazie a tutti